Cari amici telespettatori, ieri sera grande serata a Cartura con gli R&B, bellissima coreografia, bellissime canzoni, bellissimo tutto, anche nuovi successi di Zucchero mai sentiti, bravo come sempre Cristi e la sua troupe, bravissima Daniela Bulleri alla quale faccio ancora una volta i complimenti perché è stata veramente grande e poi devo dire mi sono emozionato tantissimo, fra brani nuovi e vecchi di Zucchero è stata una serata proprio bella, da rivedere e insomma ce la siamo proprio goduta a pieno, non pensavo, una grandissima performance, grandissimi tutti, da tutti i musicisti, non solo Cristi ma anche gli altri, veramente una bella band, soprattutto che hanno molto da dare alla musica e questo è importante, ho salutato diversi fan degli R&B che conoscevo, è stato veramente emozionante come serata ragazzi, devo dire che sono stato soddisfatto in tutto e per tutto e dedico questo video a tutti loro, a tutti i fan, anche quelli che sono mancati durante la serata, penso per esempio a Sebastiano Pastore, ad altri fan che solitamente li vedevano e non ci sono stati, veramente vi ringrazio ancora, li saluto e mi auguro di rivederli presto, quanto prima insomma, un abbraccio a tutti gli R&B e a tutti i loro fan, del vostro amico Samuele Cognolato, ciao e ci sentiamo presto in birata su Facebook